Quando si lavora nel settore alberghiero si pensa sempre di parlare a tutti, di avere tutti come clientela, ma se ci pensiamo già possiamo fare una grande distinzione tra la clientela leisure e la clientela business e quindi categorizzare il nostro hotel. Bene, oggi invece in questo video vi voglio parlare della clientela leisure e di come gestire questo tipo di cliente. Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo della clientela leisure. Questo video vi sarà molto utile per gestire la vostra comunicazione online e avere più idee su cosa pubblicare sui vostri canali social o magari sul vostro blog. Bene, conoscere la nostra clientela è davvero fondamentale perché solo così noi riusciremo ad avere una comunicazione efficace che ci permetterà di aumentare le nostre prenotazioni dirette, ma comunque anche di migliorare i servizi che noi offriamo all'interno della nostra struttura. Però come sempre prima di iniziare iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Prima di parlare della clientela leisure vediamo un attimino qual è la clientela leisure e quella business. Bene, quella leisure normalmente dicendolo in due parole è quel tipo di viaggiatore che normalmente viaggia per l'appunto per piacere e quindi quando ha le ferie per poter andare a visitare posti, partecipare a determinate attività. Quando parliamo di clientela business, siamo un hotel business, principalmente noi abbiamo lavoratori come clientela, quindi persone che magari devono partecipare a convegni, persone che vengono nella nostra città per incontrare i loro clienti, operai che fanno parte di aziende che hanno cantieri all'interno della nostra città e così via. Questa più o meno è la distinzione detta in soldoni tra le due categorie di clienti. Ma quando parliamo della clientela leisure di chi stiamo parlando? Questo è un termine che è stato coniato nel 2009 dall'unione di business e leisure. Quindi che cosa significa? Abbiamo unito queste due parole per andare ad indicare una clientela che viaggia per lavoro, quindi parliamo di una persona che viaggia per lavoro, che porta con sé il proprio compagno, la propria compagna, marito che sia e questo gli permette alla fine del compito svolto di prolungare il viaggio all'interno di quella città e stare con la propria famiglia e far trasformare quel viaggio di lavoro in un momento di svago e quindi in un viaggio leisure. Quindi andare a vedere i posti e magari godersi un weekend fuori. Normalmente sono il viaggiatore leisure, viaggia, vi parlo da dati, quindi nulla che mi sto inventando io fa questo tipo di viaggio una volta, due volte, ma ogni due mesi, non è un viaggiatore frequente, non capita spesso, ma questo succede che magari si portino qualcuno con loro nel momento in cui questi impegni lavorativi vadano a ricadere di giovedì, di venerdì. Quindi invece di ritornare poi a casa, prolungano il soggiorno, quindi parliamo di due, tre notti in media, per poter visitare poi quel posto con la propria dolce metà. Nel momento in cui noi abbiamo questo tipo di riscontro e quindi il nostro hotel invece di svuotarsi durante il weekend, comunque riusciamo a ottenere una buona comunicazione grazie a questo tipo di clientela, voi dovete capire che vi dovete coccolare quella persona che viene con il viaggiatore business, perché? Pensiamo a una donna che viaggia con il proprio marito, è una persona che magari quel venerdì dalla mattina fino al pomeriggio non saprà cosa fare, perché sarà da sole, magari quella cosa non la va a fare perché poi la devono fare il giorno dopo insieme, quell'altra cosa no. Se questa persona arriva il venerdì sera che sta incazzata nera perché si è annoiata, ma anche magari pur consapevole, ma si è rotta le scatole di stare lì, capite bene che questa cosa non vi accadrà più. Avrete dei clienti scontenti durante tutto il weekend, ma sicuramente non ti tornano, non prendono in considerazione l'idea di effettuare un altro tipo di viaggio del genere. Quindi, visto che questo tipo di clientela io l'ho gestita per tanti anni all'interno di una struttura, ho lavorato in una struttura business per cinque anni, capite bene che quella persona poi quando arriva, voi vi dovete dare tutte le informazioni possibili e assisterla. Cosa vuole fare? Vedere musei? fare una passeggiata, fare shopping, ecco voi dovete dargli un motivo per non annoiarsi e fare qualcosa durante quelle ore di attesa. Poi ad esempio se disponete magari di centro benessere, di solito negli hotel business è un po' più difficile che ci siano, però magari ne avete qualcuno nelle vicinanze e quindi dire ok perché non ti vai a regalare un momento di relax mentre il tuo compagno o la tua compagna sono fuori per lavoro. Bene, queste persone le dovete intrattenere, ma come fare tutto ciò prima che loro arrivino? Perché magari le persone non sanno di poter fare tutto ciò all'interno della vostra struttura o nella vostra città e quindi non ci pensano nemmeno a portare qualcun altro con loro e prolungare il soggiorno. proviscono magari di tornare sabato mattina o il venerdì notte e dire ok magari il venerdì è andato così. Come facciamo? Bene, noi dobbiamo comunicare. Diamo valore a ciò che ci circonda, diamo valore ai servizi della nostra struttura perché quando stiamo sui social quello che facciamo è mettere sempre benedette foto delle camere, vendo, vendo, vendo e sembra che vendiamo solamente questo. Diamo un motivo loro per venire da noi e quindi in questo caso non ci scordiamo del nostro cliente business perché quello è il nostro target, ma diamo loro un motivo per restare, prolungare il loro soggiorno medio, riempire, aumentare l'occupazione delle nostre camere anche durante il weekend quando abbiamo i maggiori cali, soprattutto parliamo della bassa stagione e quindi comunichiamo a chi è fuori, chi non conosce la nostra città, magari gli eventi che ci possono essere. Facciamo conoscere loro quelli che sono i nostri dintoni, tutto ciò che si può fare, non disponiamo di un centro benessere. Ok, ti dico dove andare per rilassarti, vuoi fare shopping? Ti indico io come fare shopping, credetemi, queste sono sempre delle soluzioni che funzionano all'interno della vostra comunicazione nel momento in cui siete un hotel business e avete questa necessità di riempire anche il weekend. Comunicare online è fondamentale per qualunque tipo di clientela, quelli esempi che vi ho fatto li possiamo utilizzare per avere delle idee, per pubblicare sui nostri social ma molto ovviamente voi discorrete anche di un sito web e magari vi siete dotati anche di un blog, bene sfruttate questo blog, le persone fanno le ricerche, se magari stanno pensando di venire nella vostra città e magari non è così famosa come Pisa e Firenze e quindi non sanno effettivamente che cosa si possa fare lì da voi, siete voi che lo dovete dire e non dovete sottovalutare il vostro blog, magari un blog fatto bene nel senso sì ok carino l'articolo ma dove quell'articolo sia stato lavorato a livello SEO e quindi essere indicizzato poi su Google. Quindi nel momento in cui c'è una ricerca consapevole da parte della nostra futura clientela di parte dei prospect, puoi intercettarli e far conoscere poi anche la nostra struttura. Capite bene che i canali a vostra disposizione sono molteplici ma non li sfruttate, nel momento in cui voi vi basate semplicemente sulle OTA magari, lì capite bene che ci sono tantissime altre strutture che sono su quella stessa OTA e quindi a meno che la vostra stanza non siano fantastiche o comunque non offrate effettivamente un servizio in più, dieci volte in più rispetto agli altri quello che andate a fare sulle OTA è la guerra dei prezzi. Quindi perché io devo stare da voi? Datemi un motivo, datemi un motivo per portare con me la mia compagna e il mio compagno e così prolungheremo il soggiorno medio anche durante il weekend. Ovviamente questo non vi vieta di lavorare anche offline e quindi nel momento in cui c'è una clientela business che è ricorrente all'interno del vostro hotel, direi guarda perché non porti con te la tua dolce metà e ne parliamo, ti creo io un piano mentre tu sei al lavoro, ti creo un planning per farle passare il tempo mentre tu lavori e poi durante il weekend potete andare lì, lì e lì e magari create un pacchetto che magari non utilizzerai la volta dopo ma ci possono pensare e organizzarsi e effettivamente puoi sfruttare i weekend lì da voi. Come vedete i modi per aumentare il soggiorno medio sono davvero tanti. Questo è solo uno degli esempi che io ho fatto su questo canale. Io vi invito a vedere i miei video precedenti dove parlo parecchio di questo argomento, abbiamo fatto anche l'esempio del turismo esperienziale, di come destagionalizzare i soggiorni presso la nostra struttura, mi fornisco tanti esempi, tante idee per poter aumentare i vostri soggiorni medi e avere un'occupazione eccezionale anche durante la bassa stagione perché poi non dovete ritrovarvi a trascurare la vostra comunicazione e magari credere che ad agosto le camere si vendono da sole e invece c'è qualcun altro che ha comunicato meglio di voi e poi voi magari vi rendete conto al 5 di agosto che la settimana di per agosto non si è riempita come di solito magari accadeva negli anni passati e vi ritrovate a dover rimediare all'ultimo sbendendo magari con qualche pacchetto. Ora ovviamente vi ho fatto un esempio estremo però come sempre io vi ricordo che questi sono esempi reali che io vivo regolarmente da anni con le strutture che gestisco. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile, voglio sapere che cosa ne pensate qui nei commenti oppure lasciate anche solo un saluto, invece se volete prenotare una consulenza con me trovate in descrizione il link che vi riporta al mio calendario. Io vi aspetto nel prossimo video. Besos!